Non puoi disegnare? Sono questi ritratti. Mi servono a ricordare il volto dell'uomo che ha ucciso mio padre. Chi è quella ragazza che è appena uscita? Non l'ho mai vista. Ti piace spiare la gente? È la figlia di quell'uomo! Io scoprirò che ha ucciso mio padre. Le persone dimenticano le cose brutte. Io invece me le ricordo. Tutte. L'Uomo sulla strada, dal 7 dicembre al cinema. Grazie a tutti.